Siamo a 77, a 73 e già qualcuno si cominciano a stare insieme, si cominciano a stare insieme tutti, perché si torna insieme, se voglia andare alla penetrazione, all'immigrazione, no, non si torna insieme, c'è la tripla da parte di Pauli Bacchetti, ma non sono lo stesso, 36 secondi, l'addoppiatissimo Giacchetti che trova una linea, ma qui c'è solo da limitare la prima grandissima vittoria di Roma, con questo anche battagliare, ok, non c'era in porta niente, c'era in porta, c'era in porta, in porta, c'è in porta, c'è in porta, c'è in porta, c'è in che non va ma non importa questa è confiuta prima vittoria la vittoria la vittoria la vittoria la vittoria la vittoria grazie ragazzi oggi se lo avete fatto